Da oggi ci muoveremo in completa autonomia, costituendo assieme a Gianluca Enzo Buono il gruppo consigliare dell'Unione di Centro. Chi parla è il capogruppo del neocostituito gruppo dell'Unione di Centro insieme al Consiglio Comunale di Sansepolcro, Giacomo Piccini, che spiega Il progetto iniziale con cui questa maggioranza aveva intrapreso il suo cammino era fortemente legato all'idea di rinnovamento. La lista della Casa delle Libertà era un modo per compattare tutta l'area di centro e di destra, che chiedeva un forte cambiamento. La lista nacque nel territorio e su questo disegno la nostra maggioranza aveva ottenuto la sua storica vittoria, tanto che i cittadini avevano voluto delegare le proprie speranze ai giovani, eletti in gran numero. In virtù delle ultime vicissitudini, per segue Piccini, ci siamo resi conto che la visione in maggioranza per molti è mutata. Riteniamo invece di doversi avvalguardare con lo spirito vincente del 2006 e con esso la nostra coerenza. Una posizione è questa dei centristi biturgenzi che non manca di sottolineare il coordinatore valtiverino Marino dell'Omarino. D'ora in avanti cambierà anche il nostro modo di stare in consiglio. Valuteremo ogni pratica, ogni passaggio che la maggioranza vorrà porci, non stancandoci mai di pretendere chiarezza, come ad esempio sul bilancio, che non approveremo se non sarà pienamente condiviso. Stiamo entrando nei mesi cruciali di questa maggioranza, quelli che orienteranno il giudizio finale da parte degli elettori, ricorda dell'Omarino. E vorrei dare atto alla Lega Nord, rappresentata dal consigliere Licio Pasquini, di aver mantenuto nel tempo una linea politica coerente che continuiamo a condividere. La lunga nota dell'Udc, che a Sansepolcro esprime anche il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Enzo Buono, ribadisce il forte sostegno al sindaco Franco Polcri e progetti che in questi giorni ha presentato alla città e che per i centristi è necessario portare avanti in virtù del rilancio dell'economia in un momento difficile. Centristi che tuttavia non negano l'evidenza, e cioè che le ultime sono state settimane politicamente impegnative per la maggioranza, nel corso delle quali sono state ricevite e condivise le stanze di forte revisione degli assetti di giunta, a istanze presentate da Alleanza Nazionale nei confronti di Forza Italia Viva Sansepolcro, così da dare nuova spinta all'azione di governo. E con il documento l'Udc rende noto che Alleanza Nazionale, per accelerare questa revisione, è arrivata alla riconsegna attraverso il vice sindaco Mercati delle deleghe al sindaco Polcri. Abbiamo preso atto, dichiara Gianluca Enzo Buono, come la Costituzione del Popolo delle Libertà abbia di fatto contribuito a far mutare gli orientamenti di certa parte della maggioranza. Rispettiamo tali scelte, tuttavia non è stata la nostra componente politica a sollevare il problema. Da oggi saremo sempre più vicino alla gente, ribadiamo di esserci sempre confrontati al nostro interno, di aver organizzato con continuità una vita di partito, capace di dare ascolto a militanti e simpatizzanti, così da essere costantemente al servizio del cittadino. Dunque anche la scelta di autonomia dei centristi biturgenzi giunge oggi a evidenziare l'affanno in cui si dimena la giunta Polcri nella capacità di tradurre in azioni concrete quanto proposto nel programma elettorale del 2006.